È scomparso dopo una lunga malattia di Alma Bastanzetti, aveva 71 anni, discendente della storica famiglia Bastanzetti che per tanti anni, con la fonderia dove adesso trova a posto la Casa delle Energie, ha scandito la vita lavorativa di questa città con la sua sirena. Qui lo vediamo infatti alle celebrazioni per il primo anno della Casa delle Energie, quando gli aretini hanno potuto di nuovo riascoltare quel suono. Ma è l'ultimo erede di una dinastia di grandi imprenditori aretini che hanno fuso campane per mezz'Italia, che hanno fuso i tombini per una parte consistente della nostra città, che hanno rappresentato la storia stessa della nostra capacità industriale, quindi sono rimasto colpito da questa notizia. Tra l'altro conoscevo bene Di Alma, era tra l'altro un cantante sopraffino e quindi veramente mi dispiace. Di Alma era anche un noto medico, neurologo e musicista, cantante dei Players Show e della Chicago Band come riportato in un post nella pagina Per Amore della Musica e della Solidarietà, la manifestazione che ha visto riunirsi le band aretine in favore del calcit a cui Di Alma aveva partecipato. Grande voce, grande espressione di solidarietà verso il prossimo, scrivono gli amici musicisti, il palco perde un artista grintoso. La camera ardente è allestita presso la Croce Bianca di Arezzo, la salma verrà poi cremata in una cerimonia strettamente privata.